Altro che gara di fine stagione tra una squadra virtualmente retrocessa ed un'altra invece alla caccia dei punti che mancavano per la salvezza. Castelfidardo Vastese è stata una sfida pirotecnica con sei gol, due spulsi ed almeno una dozzina di palle e gol per parte. I biancoverdi hanno venduto carissima la loro pelle vedendo sfuggire la vittoria al novantesimo, quando ad un certo punto sul 3-1 sembravano avere la gara decisamente in pugno il tecnico castellano Massimiliano Vadacca. Mister, prima di tutto complimenti per come state interpretando queste ultime partite, c'è un retro gusto amaro per questo pareggio perché comunque vincere fa sempre piacere. Anche perché è vero, amamo di vincere, penso nell'arco di 90 minuti, il primo tempo non c'è stata partita, penso che forse due o tre gol di scarto sarebbe stato per quello che si è visto nei primi 45 minuti, poi siamo passati sul 3-1, in loro in 10 sembrava fatta, poi abbiamo commesso degli errori troppo clamorosi, abbiamo concesso troppo a loro, basta che buttavano la palla avanti e arrivavano in porta. I limiti ce li abbiamo, si sono evidenziati verso la fine quando è incominciata a mancare concentrazione e attenzione. Veniamo all'episodio forse discriminante, cioè l'espulsione di Radiche dalla tribuna è sembrata abbastanza incomprensibile, se non forse per una frase che ha detto all'arbitro. Non ha detto niente, l'arbitro era già un po', io non parlo mai degli arbitri perché sull'ultima cosa, in mezzo al campo vince sempre la squadra più forte, però non ha detto niente di strano, ha soltanto detto quanto manca alla fine, l'ha presa un po', non lo so, perché era un po' agitato, però non ci sta questo, però mi dispiace per il ragazzo perché non lo militava, perché è brutto uscire sempre, già veniva da un'espulsione precedente in casa, a volte uno sembra, chi non lo conosce, sembra che sia una persona cattiva, ma non è così. Senta, quest'ultima partita, la vittoria di Campobasso, la partita di oggi, ma anche altre prestazioni, fanno aumentare qualche rimpianto per quello che poteva essere e da oggi ormai è matematico, non sarà? Sì, il rimpianto c'è stato, abbiamo avuto tante occasioni, ci sono mancati giocatori tipo Granato, adesso sta in forma, prima non ce l'avevamo e dunque con Granato in campo ne suffisce tantissimo Calabrese, nell'ultima partita ha fatto quattro gol, creiamo di più perché abbiamo un punto di riferimento, è rientrato Braccialetti, adesso siamo una squadra molto più equilibrata di quello che eravamo appena arrivato. Senta, domenica c'è una partita, o meglio, la ripresa del campionato, una partita speciale, no? Tra virgolette, cioè giocherete sul campo del Cesena di fronte ad una cornice di pubblico particolare, anche a beneficio degli amici di Matelica venderete cara la pelle? Sì, ma noi ce la stiamo giocando con tutti, ho sempre detto, dobbiamo rispettare il nostro lavoro, fino a quando noi rispettiamo il nostro lavoro ce la giochiamo contento perché abbiamo intensità, abbiamo anche giocatori di qualità e oggi si è visto su un campo come il nostro che è difficile far vedere, andiamo là a giocarci la partita e a onorare il campionato e poi vediamo quello che succede, sicuramente loro saranno con gli stimoli migliori dei nostri, noi ormai siamo retrocessi, un po' di stimoli li abbiamo persi, però sta a me durante la settimana cercare di stimolare i ragazzi e cercare di continuare a giocarci le partite a viso aperto. Esatto, ultima cosa, come motiverà i suoi giocatori per questi 180 minuti finali? Ma uno che già gioca a Cesena, un ragazzino, penso che non c'è bisogno anche di motivarlo, devo cercare di fargli capire che è una partita importante, ci sarà tanta gente, ci sarà qualcuno a vedere la partita, se qualcuno dimostrerà qualcuno per l'anno prossimo anche per mettersi in evidenza. Cronaca, come detto Ricchissima, e raccontiamole tutte le chance create in una gara intensissima e piacevole. Al quarto, Shiba inizia la sua giornata poco felice, dopo una combinazione capellupo di Giacomo in precaria coordinazione, manca la conclusione da pochi passi. Tredicesimo, lancio dalle retrovie, incertezza tra il portiere Mercorelli ed Eno che si guardano a vicenda, si inserisce Shiba che riesce ad anticipare il portiere spedendo però a lato. Non c'è un attimo di tregua, poco dopo azione sulla sinistra, impatta male il pallone Caruso, ma sul proseguo capellupo travolge Granato, proprio sotto gli occhi di Leone di Barletta. Rigore solare, come impeccabile, è la trasformazione di Calabrese per l'1-0. Ancora Castello, pericoloso al ventesimo, con un violento missile di Granato da fuori che sfiora l'incrocio dei pari. Di nuovo il centravanti bianco-verde, in evidenza al 34esimo, si incunea tra un paio di avversari, rimetta al centro per Bracciatelli che da due passi non riesce nel tappi invincente. Il raddoppio arriva al 39esimo, lungo lancio dalla difesa, Calabrese difende il pallone magistralmente, si gira in area e lascia partire un fendente che si inzacca all'incrocio. L'Avastese finalmente a questo punto reagisce e dal 42esimo accorcia con il bomber Leonetti che sulla destra si fa largo e scarica un tiro imprendibile. Non è finita, 45esimo, sempre Leonetti sul filo del fuorigioco appoggia al liberissimo Russo che svirgola completamente la conclusione. Ripresa al 13esimo ancora Granado difende la sfera, appoggia per Trillini che ci prova da fuori ma blocca a terra Patania. Al 20esimo L'Avastese resta in dieci, rosso diretto a Palestini per un'entrataccia da dietro su Granado. Al 26esimo rinviò clamorosamente ciccato da Mercorelli ma stavolta Leonetti di testa grazie a letteralmente il portiere. 29esimo ancora Granado evita in dribbling il neoentrato cardinale che lo atterra. Ancora una massima punizione e Granado realizza spiazzando il portiere. 3-1 per il Castelfidardo e sembra fatta anche considerata la superiorità numerica. Civa sbaglia ancora un'occasione optando per un pallonetto facilmente preda del portiere ma alla mezz'ora fallo di Radi su Leonetti lanciato in porta. Nuovo penalty e lo stesso Leonetti trasforma per il 3-2. Subito dopo si ristabilisce la parità numerica per l'espulsione di Radi dalla tribuna assolutamente incomprensibile. Al 37esimo missile dal limite di Cardinale che colpisce in pieno il palo. 44esimo del Ducas virgola da pochi passi una buona occasione e subito dopo arriva il pareggio. Ancora di Leonetti che evita l'incerto Giovagnoli e segna in diagonale proprio al novantesimo. Le squadre stavolta non ne hanno più dei 5 minuti di recupero. Parità in campo ed anche nei rimpianti. L'allenatore abruzzese Papagni. Papagni, allenatore della Vastese, forse si aspettava una gara complessa, non così anche per dei meriti vostri. In sede di presentazione di gara avevo detto che era la partita più problematica della mia gestione perché affrontavamo una squadra che è retrocessa però che ha mostrato di essere viva, di essere una squadra organizzata. Per cui se avessimo abbassato i nostri soliti limiti di attenzione e di concentrazione avremmo subito e così è stato. Ci siamo andati sotto sul 2-0. In parecchie circostanze abbiamo fallito le realizzazioni. Per cui mi aspettavo questo tipo di gara. Anche domenica scorsa a Campobasso il Castelfidardo ha realizzato 4 gol in trasfetta, ha vinto la gara. Quindi chi conosce la storia di questo campionato, soprattutto di questo giro in ritorno, sa che il Castelfidardo andava affrontato in maniera diversa. Più la soddisfazione per averla comunque riacciuffata. Un punto alla fine importante oppure il rammarico per le tante, troppe occasioni sciupate? Sì, lo dicevo prima. Intanto il fatto che siamo andati sotto di due reti e poi siamo riusciti anche ad avere diverse possibilità. Abbiamo fallito in diverse circostanze, alcune situazioni piuttosto semplici, ma questo accade quando c'è la frenesia e quindi quando non sei piuttosto equilibrato, tranquillo, sbagli le situazioni più semplici. Classifica ancora da sistemare, mister? Ma sì, è evidente che se avessimo vinto avremmo dato una bella botta all'avvicinamento alla salvezza. Adesso abbiamo ancora due scontri diretti, però se pensiamo a quella che era la situazione nostra quattro gare fa, che eravamo a un punto dal fossato, diciamo che rendiamoci conto, facciamo ammenda, facciamo queste festività nel migliore dei modi per recuperare le energie che oggi sono mancate. Noi non abbiamo una rosa molto lunga e quindi abbiamo patito anche il fatto di aver giocato dopo qualche giorno, dopo domenica, dopo aver profuso tantissime energie con il Cesena. Per cui credo che al momento sapevamo che non sarebbe finita e adesso ha maggior ragione che abbiamo pareggiato. Le chiedo un'ultima cosa, avete metabolizzato quello che è successo con il Cesena oppure non si metabolizzerà mai? Erano pochissimi giorni, è stato difficile perché si parlava sino a ieri sempre di queste situazioni di domenica e per cui abbiamo sicuramente cercato di metabolizzare e come dicevo prima dal punto di vista delle energie qualcosa è venuto a meno.